In questo esercizio abbiamo un blocco di 3 kg che scende lungo un piano inclinato di 30 gradi per un'altezza di 60 cm. La fine del piano scivola poi su una superficie orizzontale. Se lungo tutto il tragitto abbiamo un coefficiente di attrito tra blocco e superficie pari a 0,2, viene chiesto di calcolare il tratto percorso in orizzontale dal blocco prima di fermarsi. La situazione quindi è di questo tipo, abbiamo un piano inclinato in cima al quale viene appunto messo il nostro oggetto, una certa quota iniziale h, questo è il nostro angolo θ, e successivamente c'è un tratto liscio e quindi il nostro oggetto si andrà a fermare a una certa distanza d dall'inizio del tratto liscio che è quella che vogliamo calcolarci. Allora possiamo ovviamente fare uso dell'energia, delle considerazioni sull'energia meccanica, tenendo conto appunto che c'è una forza, le forze che agiscono sono la forza di attrito, la forza peso che è una forza di attrito e la forza di attrito che non è conservativa, è la normale che però non compie lavoro perché è perpendicolare tanto in questo tratto quanto in questo tratto lo spostamento è istante per istante e quindi è una forza che complessivamente non fa lavoro. Ovviamente l'esercizio si potrebbe risolvere da un punto di vista dinamico, ma vediamo in questo caso di sfruttare quanto sappiamo proprio sulla conservazione dell'energia. Allora possiamo scegliereci una configurazione iniziale, che è questa qua, in cui abbiamo un certo valore di energia iniziale, e una configurazione finale, che è questa, quella di arrivo, in cui abbiamo un certo valore di energia meccanica finale. La mia energia iniziale ovviamente sarà uguale all'energia gravitazionale iniziale più l'energia cinetica iniziale. Se scegliamo come un punto di riferimento per il calcolo dell'energia potenziale gravitazionale, proprio la quota 0, alla base del piano inclinato, l'energia potenziale gravitazionale in questo punto sarà data da m per g per h, che è proprio il nostro dislivello, più l'energia cinetica iniziale che è 0, perché il nostro blocco inizialmente è fermo. La nostra energia finale, quando siamo qua sotto, sarà uguale all'energia gravitazionale finale, quindi finale più la nostra k finale, ma l'energia finale gravitazionale sarà 0, perché scendiamo proprio all'altezza della quota di riferimento, quindi la quota, il dislivello è 0, quindi è 0, più l'energia cinetica che sarà anch'essa 0, poiché stiamo supponendo che alla fine il nostro blocco si debba fermare. Quindi queste due, la differenza tra l'energia finale meno l'energia iniziale, deve essere uguale al lavoro della forza di attrito. Il lavoro della forza di attrito ce lo possiamo ovviamente calcolare, tenuto conto che la forza di attrito agisce qui ovviamente parallelamente al piano inclinato, qui ovviamente anch'esso parallelamente al piano inclinato e qui parallelamente al piano, quindi qua avremo una certa F con A, possiamo indicarla con F con A', che avremo una certa F con A, saranno diverse perché ovviamente qua siamo in orizzontale, qua c'è un piano inclinato, quindi la normale sarà diversa rispetto a questo punto. In questo punto avremo che la forza di peso M con G, quindi la normale N, avremo quindi che la forza di attrito sarà semplicemente M con C per R N, ossia M con C per M per G, mentre in questo punto la forza di peso M con G sarà così, quindi la normale N sarà uguale alla componente, è opposta alla componente lungo la verticale della forza di peso, quindi se questo è θ, questo sarà θ, quindi F, questo sarà N', F con A' sarà U con C per N', ossia U con C per M per G per il coseno di θ. Quindi queste sono le due forze di attrito, in questo tratto ovviamente avremo uno spostamento, quindi L, in questo tratto avremo uno spostamento pettoriale D, quindi il lavoro complessivo della forza di attrito sarà uguale a F con A' che moltiplica scalarmente il nostro L, più F con A che moltiplica scalarmente il nostro D. Ovviamente questi li possiamo scrivere come F con A' per L per il coseno di 180 gradi, più F con A per L per D per D per il coseno di 180 gradi, poiché in ambi due i casi la forza e lo spostamento hanno verso opposto, quindi forza è così, lo spostamento è così, quindi l'angolo è 180 gradi, tanto in questo caso quanto in questo caso, quindi il coseno è 180 che fa meno 1. Quindi questo possiamo scrivere come meno la F con A' che era U con C per M per G per il coseno di θ, quindi la nostra forza di attrito primo, per L, meno, anche qua, M per G per U con C che era la nostra forza di attrito, per il D, per lo spazio percorso D. Quindi questo è il nostro lavoro delle forze di attrito, questo deve essere uguale alla differenza di energia complessiva, di energia totale, meccanica totale, quindi avremmo la nostra energia finale che era 0, quindi 0 meno la nostra energia iniziale che era Mg per H, deve essere uguale all'altra parte a questo qua, lavoro alle forze di attrito, quindi meno U con C per Mg coseno di θ che moltiplica L, meno U con C per Mg che moltiplica D. Quindi da questo ci possiamo ricavare il valore di D che era quello che volevamo sapere, quindi lo spazio percorso prima di fermarsi, ovviamente tutti questi meno si semplificano, e se da questo ci ricaviamo D, otteniamo che D è uguale ad H, meno Mg che moltiplica 2H coseno di θ, tutto quanto fratto Mg. Quindi questo è quello che viene fuori, teniamo conto che qui dobbiamo sostituire anche al posto di L che non conosciamo, il nostro L che non conosciamo è uguale ad H fratto coseno di θ, L è uguale ad H fratto coseno di θ. Quindi se andiamo a sostituire questo qui dentro al posto di L, andiamo a svolgere questi calcoli di D è risultato uguale a questo. Se andiamo a sostituire quindi qual è il valore di H, il valore del coseno dell'angolo, il valore di μ con C che conosciamo, risulta fuori un D pari a 1.96 metri. In questo esercizio abbiamo un blocco di massa 0.8 kg che è il moto su un piano orizzontale, con una velocità di 1.2 metri al secondo, ed urta una molla orizzontale, quando ha questa velocità, urta una molla orizzontale con una costante K 50 Nm sul metro. Viene chiesto di calcolare la massima compressione della molla nel primo caso in cui non ci sia attrito, in assenza di attrito, e successivamente per un coefficiente di attrito, ovviamente, tra il blocco e il piano, pari a 0.5. Allora, la situazione è questa. Abbiamo il nostro piano orizzontale, il nostro blocco che ha una certa velocità di con 0, che urta, quindi una nostra molla, che ovviamente inizialmente nella sua posizione di equilibrio possiamo indicare con x uguale a 0, supponiamo di scegliere questo come verso crescente delle x, e successivamente il nostro blocco si ferma, comprime la molla e si ferma, ovviamente, poi di ripartire all'indietro, comprimendo la molla di un certo tratto x con 1. Allora, vogliamo sapere quanto vale, quindi, questa compressione. Cominciamo con il caso in cui non vi sia attrito. Le forze che agiscono sono, ovviamente, la forza peso, M per G, la forza elastica e la normale. La normale non compie lavoro in tutto il tratto, anche la forza peso non compie lavoro in tutto lo spostamento, quindi possiamo non considerarle. Le uniche forze che compie un lavoro, quindi, sono la forza elastica, e in questo caso, nel primo caso in cui non c'è attrito, è l'unica forza che compie lavoro ed è una forza conservativa. Quindi possiamo utilizzare la conservazione dell'energia, e possiamo, ovviamente, utilizzarla considerando questo primo punto, questo qua, come e con 0, come l'energia iniziale calcolata nell'istante in cui il nostro blocco tocca la molla, ed e con 1 l'energia finale calcolata nell'istante in cui la molla è completamente compressa, al massimo della compressione. Allora, la nostra E con 0 sarà uguale alla U potenziale elastica in 0, più l'energia cinetica K con 0. Allora, la mia energia potenziale elastica in questo istante, all'istante in cui siamo in x uguale a 0, è ovviamente nulla perché la molla è in posizione di equilibrio e non è compressa, più l'energia cinetica che è un mezzo M per V con 0 al quadrato. Quando siamo invece nella condizione 1, in x con 1, avremo E con 1 uguale U elastica 1 più K con 1. Allora, la nostra energia potenziale elastica dovuta alla compressione della molla, sappiamo che si può scrivere come un mezzo Kx con 1 al quadrato, dove x con 1 appunto è il spostamento dalla posizione di equilibrio della molla, che è x uguale a 0 e vale appunto x con 1, più l'energia cinetica che abbiamo detto essere uguale a 0, perché stiamo dicendo che in questo istante il nostro blocco si ferma prima di ripartire all'indietro. Quindi questi due devono essere uguali, quindi E con 0 deve essere uguale a E con 1 in assenza di attrito, quindi viene fuori che un mezzo M di con 0 al quadrato deve essere uguale a un mezzo Kx con 1 al quadrato, e quindi se andiamo a risolverci questa equazione, troviamo che la nostra x con 1 deve essere uguale alla radice quadrata di M di con 0 al quadrato fratto K. Se sosteniamo il valore di K, la nostra massa che conosciamo, la nostra velocità che conosciamo, risulta fuori un x con 1 uguale a 0.15 metri. Questo è il primo caso in cui non vi sia una forza di attrito, se invece teniamo conto della forza di attrito, quello che succederà è che ci sarà anche quindi una forza di attrito che agisce, quindi in questo caso, possiamo disegnare qua stesso, ci sarà una forza di attrito che agisce, questa forza di attrito ovviamente compierà un lavoro in tutta questa compressione, e la compressione chiaramente sarà diversa, possiamo chiamarla x con 2, quindi avremo in questo caso, trattiamo da 0, con b con 0 nella posizione x con 0, e avremo una certa compressione x con 2, e in tutto questo tratto avrà agito la nostra forza di attrito, che ovviamente è opposta allo spostamento, quindi per tutto questo tratto, questo spostamento qua, avrà agito la forza di attrito, che ovviamente è opposta allo spostamento. In questo caso quindi cosa possiamo scrivere? Che le nostre energie, le nostre energie iniziali e finali non sono uguali, avremo una e con 0 e una e con 2, che sono diverse, e la loro differenza sarà proprio uguale al lavoro dell'unica forza non conservativa, che agisce, ossia della forza di attrito, quindi avremo e con 2 e con 0, sarà sempre la stessa, ossia sarà un mezzo m di con 0 al quadrato, e con 2 sarà un mezzo k x con 2 al quadrato, ovviamente a quanto prima, visto prima, solo che qua abbiamo una deformazione di x con 2, e e con 2 finale meno e con 0 sarà uguale al lavoro delle forze di attrito. Il lavoro della forza di attrito ce lo possiamo facilmente scrivere, poiché la forza di attrito è costante in tutto lo spostamento, quindi sarà semplicemente il prodotto della forza di attrito per lo spostamento, lo possiamo indicare col vettore x con 2, che è proprio il vettore che va da 0, quindi questo vettore qua che va da 0 al tratto di lunghezza x con 2, e questo è semplicemente uguale a f con a per x con 2 per il coseno di 180 gradi, poiché i due vettori hanno la versione opposta, ossia meno f con a per x con 2. La forza di attrito ovviamente ce la possiamo calcolare come la normale n per μ con c, e la normale, visto che siamo su un piano orizzontale, non è altro che uguale opposto alla forza presa, quindi meno mg per μ con c per x con 2. Quindi questo è il lavoro della forza non conservativa, deve essere uguale alla differenza di energia, quindi avremo la e con 2 che è un mezzo k x con 2 al quadrato, meno la e iniziale, un mezzo m v con 0 al quadrato, deve essere uguale all'altra parte a meno mg per x con 2. Quindi a questo punto da questa relazione l'unica incognita che ci rimane è proprio il calcolo della nostra x con 2. Questa equazione è un'equazione di secondo grado in x con 2, quindi per risolverla dobbiamo andare a sostituire tutti questi coefficienti, m v con 0, k, m g e μ con c, valori che conosciamo, sono tutti i nostri dati, la massa, la costante elastica e l'accelerazione di gravità, e verrà fuori quindi un'equazione in x2 al quadrato, che se andiamo a fare sostituzioni è del tipo 25x2 quadro più 3.92x2 meno 0.576 è uguale a 0. Un'equazione di secondo grado in x con 2, se questa equazione la risolviamo, questa risulta avere due soluzioni. La prima soluzione di x con 2 è 0.092 metri, la seconda soluzione è una soluzione minore di 0, e questo ovviamente non ha significato fisico, perché un x minore di 0 significherebbe una posizione che è al di qua della nostra molla, quindi prima ancora che il corpo tocchi la molla, ovviamente questa soluzione è priva di significato fisico, se andiamo qua prima di x con 0 che ci ricordiamo è uguale a 0. Quindi significa che l'unica soluzione da considerare è questa, e quindi nel caso in cui abbiamo attrito, questi sono metri ovviamente, nel caso in cui abbiamo attrito la compressione è 0.092 metri, che chiaramente risulta minore della compressione nel caso in cui non avevamo attrito, e questo è ragionevole, in quanto se abbiamo attrito, oltre alla molla c'è anche la forza di attrito che rallenta il nostro corpo, e quindi si fermerà schiacciando la molla meno, percorrendo uno spazio minore rispetto al caso in cui non era presente la forza di attrito, ed è necessaria quindi più forza elastica per, più compressione, quindi più forza da parte della molla, più lavoro da parte della molla, per arrestare completamente il corpo. Grazie a tutti.